Partiranno nei prossimi mesi i lavori di manutenzione straordinaria della diga foranea nella zona del porto di Fano. L'intervento riguarderà tutto il perimetro che costeggia la passeggiata dell'Isippo dall'inizio della spiaggia di Sassonia fino alla statua dell'atleta. Sì, il comune di Fano ha affidato i lavori a una ditta, la Sefa Italia della provincia di Napoli. Quello che faremo è sistemare tutta la scogliera che difende il porto di Fano, per cui saranno riposizionati i massi che nel tempo sono scivolati fuori sagoma e saranno apportati nuovo materiale, quindi nuovi massi via nave dalla Croazia per ricoprire la mantellata che nel tempo si è, tra virgolette, usurata. Questi sono lavori importanti, tanto attesi, che fanno parte di un programma di lavori al porto per sistemarlo e sono lavori che presumibilmente, condizioni metomarine permettendo e se ci sarà la collaborazione della ditta, tema molto importante, che hanno un valore di circa 500 mila euro, saranno effettuati all'inizio della primavera. Rimanendo in zona, l'assessore con delega alla difesa della costa ci ha illustrato anche la situazione per quanto riguarda l'ultima scogliera da realizzare davanti ai bagni Carlo. Nonostante il Comune abbia fatto in tempi record il progetto La Gara e abbiamo fidato i lavori il primo luglio 2022, la ditta che aveva vinto La Gara si è rifiutata di iniziare questi lavori, per cui la ditta è stata segnalata alla ANAC, abbiamo escusso anche le polizze fiduissorie, minima consolazione per quanto riguarda quello che avevano garantito di poter fare non hanno dato seguito a quell'appalto e quindi siamo costretti a di nuovo fare una nuova gara contemplando prezzi più alti che nel frattempo sono aumentati dati i costi dell'energia e quindi a questo punto il progetto ci è stato consegnato, siamo pronti per ribandire la gara e sperare che questa volta la ditta che vincerà l'appalto potrà eseguire lavori come ci aspettiamo. In conclusione Fanesi ha annunciato l'arrivo dell'imbarcazione del provveditorato opere pubbliche di Ancona nella giornata di lunedì al porto di Fano che verrà utilizzata nei prossimi giorni per i rilievi batimetrici nella zona di Metauriglia. Il Comune di Fano insieme alla Regione Marco e il provveditorato opere pubbliche realizzerà presto un nuovo progetto e affiderà i lavori per continuare il lavoro di difesa della costa di Metauriglia con altri 4 milioni di euro e dunque vorremmo chiudere in tempi molto rapidi la difesa della costa di Metauriglia prolungando il lavoro che abbiamo già fatto a Metauriglia fin verso Torrette. Un lavoro importante atteso per cui i tempi sono molto stretti e lunedì inizieranno già i lavori di rilievo per poter permettere al provveditorato opere pubbliche di poter realizzare in tempi record il progetto e conseguentemente fare la gara d'appalto.